L'American Tribal Style, ATS, è una danza nata in America negli anni 80 che unisce elementi della danza del ventre con il flamenco e la danza indiana e si basa esclusivamente sull'improvisazione di gruppo. A turno ogni ballerina diventa la leader del gruppo e tutte le compagne la seguono all'unisono seguendo una serie di codici e di segnali per cambiare da un passo all'altro. È una danza che stimola l'unione, la condivisione e il rispetto reciproco. Da Sassari danza per noi il gruppo Tourant Tribe, composto da Alessandra, Chiara, Claudia, Cristina, Francesca, Gabriella, Paola, Rita, Stefania, Valentina, Veronica e ospite speciale da Bosa, Lucia. Sorrezordana Grazie a tutti 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 Grazie a tutti